Nuovo per l'uomo, denim, denim aftershave, è forte di legno e di cuoio, amaro di tabacco inglese stagionato, denim aftershave per l'uomo che non deve chiedere mai. Il ricordo essere stata la prima fragranza lanciata sul mercato da parte di questo brand nel 1978, allora detenuto dalla multinazionale anglo-olandese Unilever, ma attualmente di proprietà italiana in seno alla Sodalis Group, che all'epoca non recava la denominazione di Original, introdotta nel corso degli anni per distinguerla meglio da tutte le altre varie fragranze che si sono man mano aggiunte e che ho in buon numero elencato nella prima parte della video recensione cui facevo riferimento poco fa. Prima di iniziare voglio comunque doverosamente ringraziare altre persone che si sono aggiunte al canale lasciando un messaggio, un commento che sono Mashanti, Net Hitek, Giacinto Indrio, Miki ed un ringraziamento particolare, però voglio fare invece a Fabio Cancelleri che è un simpatico signore in pensione che da poco tempo si è messo anche lui a fare video sulla rasatura su YouTube con il suo canale video Fabio Cancelleri che ovviamente vi invito ad andare a vedere, quindi un ringraziamento a tutte queste persone. Ho aperto questa seconda parte direttamente con la mitica e celebre pubblicità televisiva di debutto del brand Denim, già inserita nella prima parte che alcuni datano 1979 altri 1981 come indica però lo stesso brand e prendendo spunto proprio dalla comunicazione commerciale che recita forte di legno e di cuoio ed amaro di tabacco inglese stagionato andiamo a vedere nel dettaglio la sua ottima fragranza classificabile come esperidata o da grumata, floreale e legnosa. Sulla piramide olfattiva del Denim Original sparse per la rete si trovano non solo indicazioni leggermente differenti tra di loro ma anche diversificate tra la versione aftershave e quella dell'eau de toilette mentre sul sito ufficiale del brand denim4man.com le informazioni sulle fragranze sono al contrario univoche nell'ambito dei vari prodotti di una stessa linea, pertanto preferisco attenermi a queste ultime. Per le note di testa o note alte sono dichiarate essenze di bergamotto, artemisia, limone e galbano nelle note di cuore o note medie si trovano invece il fiore di arancio, il gelsomino, la rosa, l'iris ed il timo per finire nelle note di fondo o note basse ci sono il cuoio, il pacciouli, il legno di cedro e due diverse varietà di muschio non meglio specificate. Singolare però come la piramide olfattiva dichiarata dal brand non contempli la nota vegetale di tabacco, uno di quei contenuti di cui si fa forte proprio lo spot commerciale del 1981 anche se si conferma assolutamente veritiero il fattore amaro che trasmette la fragranza del denim. In entrambe le occasioni nelle quali ho effettuato le recensioni di un aftershape l'ho sempre precisato e così lo faccio anche questa volta, non dispongo assolutamente di un naso allenato nel cogliere i numerosi temi tematici aromatici di una profumazione e neppure sono un appassionato del mondo delle fragranze in generale, pertanto tutte le mie osservazioni restano ancorate alle mie limitate capacità. Nonostante questo ritengo comunque le indicazioni date dal sito ufficiale della denim le più affidabili, tra le diverse che ho avuto modo di incontrare sparse per il web, soprattutto per la presenza del fiore di arancio contenuto nelle note di cuore, uno di quei dettagli che appunto come dicevo non ho avuto modo di riscontrare nelle varie altre piramidi olfattive di questo prodotto, fiore di arancio che addirittura avverto in una certa misura anche nella crema da barba original che tenta di ispirarsi a quella dell'aftershave anche se poi riesce ad imitarla solo molto alla lontana. Allo splash si ha sicuramente un buonissimo impatto alcolico, anche non conoscendone la concentrazione esatta si sente che è piuttosto elevata, così come è molto decisa l'intensità iniziale che si percepisce della sua fragranza, ovviamente agrumata come dichiarano le note di testa considerando che tre dei suoi quattro principi vedono oltre al bergamotto ed al limone anche la presenza dell'artemisia, una pianta che dai suoi oli essenziali è in grado di emanare fragranze simili al cedro ed alla citronella e dove rimane quindi il solo galbano a svolgere una funzione più di contorno che si presume legnosa e balsamica per chi ha la capacità di percepirlo, ovviamente dote purtroppo però non in possesso del sottoscritto. Non ci ravvedo la tipica agrumatura forte e penetrante, bensì abbastanza dolce e pacata che se non proprio immediatamente in brevissimo tempo appare già piuttosto bene inserita in un generale contorno floreale, quello delle note di cuore con le quali si accorda piuttosto velocemente che rende il tutto molto piacevole, rotondo ed equilibrato senza far sparare troppo in alto le tipiche tonalità accentuate e speridate. In questa primissima fase il bergamotto è sicuramente il maggior protagonista dove invece io personalmente non ravviso per nulla il limone ed a cavallo della prima metà di quei 4-5 minuti della sfiammata delle note di testa viene fuori anche l'essenza sprigionata dall'artemisia, più cedrata dolce che di citronella secondo me e che si accorda davvero molto bene proprio con il bergamotto. Dopo la sfiammata delle note di testa che dura quei 4-5 minuti la fragranza si fa più armonica e gradevole poiché cominciano a venire fuori le essenze profumate floreali contenute nella lozione, ovviamente perdurando ancora per un po' una vena agrumata leggera che si sposa molto bene alla fragranza del fiore di arancio cui facevo riferimento più indietro. E si comincia a percepire anche quello che secondo me è un altro marchio di fabbrica del denim original ossia l'amarosità di fondo del suo profumo che lo rende davvero particolare che dal suo sopraggiungere non lo lascerà più in tutte le sue fasi ovviamente seguendo il fisiologico abbassamento dell'intensità del dopobarba nella sua linea temporale ma dando l'evidente sensazione di essere sempre presente ed amarosità che dovrebbe riguardare proprio quel chiaro riferimento della prima pubblicità del denim quindi al tabacco amaro inglese stagionato anche se lascio ai nasi molto più esperti del mio il compito di riuscire a cogliere anche l'eventuale marchio vegetale vero e proprio del tabacco. con il sopraggiungere delle note centrali si fa apprezzare piacevolmente la profumazione appunto del fiore di arancio molto rotondo e bene avvolto nel contorno floreale delle altre essenze presenti ma che percepisco complessivamente abbastanza asciutto perché a mio avviso il denim original adotta lo stesso principio un po' in tutte le sue fasi ovvero quello è evidenziato già evidenziato per quanto riguarda le note agrumate di testa ovvero che anche in questo caso non ci si trova di fronte ad una percezione aromatica troppo stimolante e parlando quindi di note floreali eccessivamente dolci e ridondanti ma oltre al tema fiorito va menzionata anche la presenza del timo unica aggiunta vegetale speziata alle note di cuore un'erba aromatica dalla profumazione piuttosto intensa ed anche facilmente riconoscibile in quanto molto comune negli usi gastronomici ed in effetti nella fragranza del denim original il timo si sente decisamente donando un sottofondo vegetale aromatico che oltretutto contribuisce al pari dell'amarosità ad asciugare la percezione olfattiva al fine di non farla diventare eccessivamente sdolcinata anche così però giudico la personalità del denim original come forte e decisa molto significativa che cresce sensibilmente di intensità con il passare dei minuti per tutta la prima ora circa di applicazione oltretutto alle importanti qualità sia di crescita che di forza della sua intensità si affianca anche quella della stabilità aromatica dove non ho ravvisato particolari sbilanciamenti nell'esprimere le tre personalità che io perlomeno riesco a coglierci ossia quella floreale nel mio caso molto sbilanciata sul fiore di arancio ma i più esperti sapranno sicuramente cogliere anche le note della rosa del gelsomino e dell'iris è quella amara e quella speziata appunto secca ed asciutta del timo durante la seconda ora ovviamente l'entrata graduale delle note di fondo ne vanno a modificare la percezione generale che attenua un po la sua amarosità oltre che a scendere leggermente di intensità superando di poco le due ore di applicazione in maniera però ancora decisamente soddisfacente note di base che inizialmente mi paiono molto più legnose che di conceria ma poi invece con il passare del tempo effettivamente assumono decisamente quei contorni di cuoio e di pelle soprattutto dopo la seconda ora quando anche le sfumature delle note centrali cominciano ad abbassarsi sensibilmente pur accompagnando ancora eccezione fatta forse solo per la profumazione del timo che tendo a perdere del tutto anche in questa seconda fase e fino a circa le due ore e mezza se ne apprezzano tantissimo sia la stabilità che la regolarità dove l'intensità della fragranza scende sempre in maniera lenta e graduale qualità non sempre riscontrabili in un aftershave dove si guadagna anche una sensazione calda e vagamente suadente proprio portata dalla nota cuoiata solo quando si oltrepassa la soglia delle due ore e mezza si comincia ad andare un po a strappi per sussulti tendendo la profumazione in alcuni momenti a sfuggire molto ed in altri invece ad essere ancora abbastanza percepibile superando in ogni caso le tre ore molto dignitosamente confermando a mio anche una durabilità di grande livello tenendo presente che si tratta di un aftershave che non dispone sicuramente di elevate percentuali di concentrazione delle varie essenze contenute un ultimo aspetto che non posso sicuramente dire di aver percepito come di rilievo in questo aftershave è la sensazione di freschezza sulla pelle dove non mi pare proprio che si distingui come altri prodotti classici ma che però proprio per questo motivo aiuta sicuramente meglio ad apprezzare le sue particolari caratteristiche olfattive dove nasi appunto non eccelsi come il sottoscritto non rischiano di rimanere troppo anestetizzati da sensazioni di eccessiva frescura chiudo solo con un rapidissimo sguardo all'inci del denim original giusto per segnalare la presenza di quelle sostanze che possono favorire un buon condizionamento della pelle per quanto riguarda il post rasatura e che sono la glicerina per quanto riguarda l'idratazione e l'emolienza la cumarina e l'eugenolo questi ultimi entrambi per le loro proprietà antinfiammatorie antibatteriche e disinfettanti pur se la loro presenza è da intendersi anche nel ruolo di agenti profumanti o fissativi di altre profumazioni da questo punto di vista nulla di trascendentale sul piano della formulazione quindi ed effettivamente pur non potendomi assolutamente lamentare dell'ascito che questo after shave dona alla pelle dopo l'applicazione allo stesso tempo non posso nemmeno elogiarne particolari punti di merito vengo infine alle mie personali conclusioni sul denim after shave original che pur non potendo essere annoverato tra quelli più prettamente storici può considerarsi comunque un veterano nel suo genere considerando che sono passati ormai 45 anni dal suo debutto del 1978 e senza dimenticare nemmeno l'enorme consenso di massa ricevuto durante la sua vita commerciale personalità sicuramente forte decisa e di carattere per intensità con grandi doti anche di stabilità e durabilità ma non di meno squisitamente apprezzabile sul piano puramente aromatico che divide la vita utile di questa fragranza in tre diversi livelli nettamente caratterizzati l'uno dall'altro ma in buona parte anche interconnessi tra di loro è certamente una profumazione molto maschile ma se poi possa essere classificata anche come virile seduttiva e sensuale soprattutto a guardare l'immagine che ne ha voluto dare il suo leggendario lancio pubblicitario forse questo più che un uomo potrebbe dirlo una donna ad ogni modo non credo che ci si debba incanalare a tutti i costi in aggettivi qualificativi di questo tipo per dimostrare di apprezzare il denim original un prodotto davvero ottimo per l'uomo come detto deciso forte e di carattere sicuramente maschile ma anche molto profumato e molto aromatico insomma semplicemente buono da sentire e da utilizzare e che oltre a tutto questo unisce anche una facilissima reperibilità perlomeno nei grandi supermercati dei centri commerciali o nelle catene di prodotti dedicati alla cura della persona e dalla pulizia della casa come può essere ad esempio acqua e sapone e che grazie alla sua popolarità offre cotanta goduri aromatica ad un prezzo il più delle volte compreso tra i 4 e di 5 euro qui finisco quindi con il parlare del denim aftershape original poi ribattezzato original lasciandovi con il secondo sketch televisivo di grande successo come sempre vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta sperando di avervi fornito informazioni utili e ci vediamo alla prossima video recensione un saluto ed a presto sul canale della lama ed il pennello denim denim aftershave amaro e forte unico sempre denim per l'uomo che non deve chiedere mai ciao